Ciao ragazzi, io sono Falcone e oggi sono qua con un nuovo video dedicato a Carmageddon perché il gioco è uscito sconfitto dal nostro sondagione settimanale o mensile, come vogliamo chiamarlo però siccome vi avevo promesso quantomeno una partita in molti eccoci qua per accontentare quelli che la desideravano per cui adesso che il gioco è ufficialmente uscito, credo si saranno riempiti, potremo goderci questo multiplayer online, per cui io direi di fare una partita veloce e fare una cosa piuttosto rapida così vediamo subito di che pasta è fatto questo multi, visto che era l'unica cosa che ce n'è rimasta un po' appesa sia dopo lo scopriamo sia dopo la recensione che vi ho proposto qualche giorno fa per cui speriamo bene allora dopo un'attesa piuttosto lunga perché a quanto pare i server non sono poi così pieni come avrei sperato siamo riusciti ovviamente a trovare una partita per cui adesso non ci resta che sperare che si riempia la lobby altrimenti saremo in due insomma sarà un massacro se dovessimo rimanere in due vabbè i server sono ufficialmente vuoti almeno su Xbox One e almeno per il momento per cui siamo un uno contro uno e speriamo bene bene sono carico e sono pronto mamma mia allora aiuto niente eh vabbè sono stato leggermente leggermente rincoglionito qua proprio leggermente mi sono suicidato su un treno vabbè perché il tizio c'ha una una sorta di caro armato dove io sono con una normalissima macchina ce l'ho ce l'ho niente non ce l'ho più devo riuscire a farlo a pezzo almeno una volta via via l'unica l'unica strada è la fuga aspira carrozzeria avversario oh cola petrolio da vabbè questa è mio è mio lo aspiro lo aspiro lo aspiro non lo aspiro minimamente mega turbo ma non mi serve adesso maledizione niente non aiuto sta finendo come peggio non potrebbe finire aiuto oh qualcuno disattivi questo fottutissimo turbo automatico non posso fare niente canguro a comando anche la tuta l'are è troppo e salta più su maledetto niente vabbè me ne vado arrivederci la strada è lunga e io c'ho da fa ce l'ho ma perché niente è drammaticamente sbagliato tutto ciò ho un colpo solo me lo devo giocare alla grande avevo un colpo solo dove andava sei mio no no niente che amarezza che profondo senso di amarezza eh sto giro l'ho preso in pieno però veramente gravità di giove ma 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 porcaccio giuda non vinco mai questo c'ha c'ha un car armato poi è tipo sbilanciatissima sta cosa maledetto te faccio a pezzi te faccio a pezzi a sto giro te faccio a pezzi nooo perché la macchina non si rimette dritta niente gli è presa gli è presa così sono diventato nella vita mi hanno detto che potevo diventare tutti sono diventato un ballerino di breakdance ma con la macchina eeeh si fermerà prima o poi secondo voi no credo di no eeeh qua ci scatterebbe la canzoncina se non fosse coperta da copyright quella del trottolino amoroso vabbè eeeh aiuto c'è qualcosa di terribilmente sbagliato in tutto ciò basta a trattato mi sta venendo anche da vomitare un pochino per cui ooo niente ooo mamma mia ooo allora mortaio mortaio piglalo col mortaio nooo ma 38 secondi un colpo per la vittoria nooo maledizione che cosa sta succedendo 20 secondi il tizio fugge ha paura di noi nooo lo volevo buttare sotto al treno maledizione vabbè niente è finita malissima come peggio non poteva finire io mi vado a suicidarmi fuori dai margini dalla mappa addio oh abbiamo abbiamo altri due compagni adesso incredibilmente gara a tre potrebbe essere un momento magico per cui io prima di chiudere almeno un'altra partita devo farla quantomeno per cercare di non arrivare ultimo perché prima per carità sono arrivato secondo peccato che fossimo in due per cui adesso ben quattro anche il quello che mi ha appena brutalizzato si è unito a noi vabbè in quattro direi che può venire fuori una gran bella partita la zona la conosciamo teoricamente dovremmo riuscire ad ottenere qualcosa di positivo teoricamente un po' sbruciatore non ci interessa soldi 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 nooo non cominciamo così eh non cominciamo con le giravolte ok capacità di defeccare mine mi piace mi insegue sempre lui niente non c'è aiuto è una sfida fra titani raggio banana niente raggio banana non ha prodotto alcun tipo di risultato sto sbloccando solo tanta robaccia perché oh abbiamo uno che si è suicidato bene no un po' di soldi su fatemi no mi sono auto suicidato ma perché ma perché niente devo mi molo mi molo dove sono tutti sto arrivando a tre all'ora sì 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 la palla umana niente mi sto facendo più danni da solo di quanti ne faccio agli altri e la cosa non è minimamente normale sono senza ruote il barile il barile il barile soldo niente non è una cosa è una cosa veramente angosciante mi sto trascinando fra arcaccio giuda niente è arrivato sempre lui vabbè mi hanno fatto a pezzi era scritto era questione di secondi ormai perché non riesco a usare questa palla gigante per fare qualcosa di male no ma che amarezza stavo preparando una cosa bellissima da fargli niente sono una gran pippa a sto gioco sei mio sei mio niente non gli faccio niente a nessuno si l'ho fatto volare non so bene a che pro ma eccolo 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 mi date un potenziamento mine esperienza drammatica comunque devo dire veramente drammaticissima questa esperienza mamma mia che parto vabbè sono arrivato terzo su cinque però uno si è ritirato subito quindi terzo su quarto sì terzo su quarto terzo su quattro bel risultato complimenti a me beh ragazzi niente io direi a questo punto che mi sono umiliato a sufficienza per cui spero che questo video vi abbia chiarito le idee su quello che il multi di Carmageddon Max Damage ha da offrire se così non fosse fatemi qualsiasi domanda nei commenti o se volete vedere di più non dovete fare altro che chiedere detto questo vi ringrazio di avermi seguito come sempre e vi do appuntamento alla prossima ciao ragazzi grazie a tutti